Episodio 13 del corso di Mi Journey, oggi parliamo della modalità pubblica contro la modalità stealth, quindi quella nascosta. Intanto vedete che ho cancellato il lavoro precedente in Relax, perché non ha fatto in tempo per il nuovo video, ma non è assolutamente un problema. E oggi parliamo appunto di Relax, scusatemi non Relax, ma parliamo di Public Mode contro Stealth Mode. Allora, di default è Public, quindi tutto ciò che facciamo è pubblico. Ma cosa vuol dire pubblico? Pubblico vuol dire che è pubblico su Mi Journey.com, quindi la pagina con tutti i lavori di tutta la comunità è pubblica. Se qualcuno viene sul vostro profilo e avete dei lavori pubblici, li vede. La Stealth Mode invece è una modalità che avete esclusivamente con l'ultimo abbonamento, quello pro, quindi quello più costoso, che vi permette di nascondere i vostri lavori. I vostri lavori non compaiono sul vostro profilo su Mi Journey e non compaiono nella community di Mi Journey. Questa cosa è ottima se dovete fare cosa? Se magari state facendo dei lavori per un sito e magari non volete che qualcuno vi copi il prompt, vi copi l'immagine, qualsiasi cosa. Quindi se state facendo qualcosa di particolarmente sensibile per un qualsiasi motivo, mettete la Stealth Mode. Altrimenti, di default, in modo predefinito, siete in Public. Attenzione però che la Stealth Mode riguarda solo la community. Se voi utilizzate il bot dentro un server privato o dentro il server di Mi Journey, Stealth o no, i risultati si vedono lì dentro, perché da qualche parte il bot deve mandarle a schermo. Quindi Stealth Mode ci sta semplicemente nascondendo i risultati dalla community in generale. Ma se noi lo generiamo qua dentro, il messaggio viene buttato qua a schermo, capite? Quindi per aver la conferma di essere al 100% Stealth, tra virgolette, è quella di lavorare in privato, quindi nei DM di Discord, come sto facendo io, e avere la Stealth Mode, ok? Quindi la potete modificare da qui, Public, Stealth Mode, perfetto. Oppure potete utilizzare i due comandi, che non facciamo, ma ve li faccio vedere e basta. Abbiamo Public, eccolo qua. E poi abbiamo Stealth, perfetto. Quindi questi sono i due comandi e questo è ciò che fanno. Altra cosa importante, se io prendo un mio lavoro, abbiamo la possibilità di pubblicarlo. Quindi Publish, vedete? Abbiamo la possibilità di pubblicarlo. Quindi anche se è Stealth, tolgo qua, anche se abbiamo, dicevo, i lavori in Stealth, possiamo poi successivamente pubblicarli nella community. Quindi non vuol dire che non saranno mai visibili a nessuno, possiamo successivamente pubblicarli. E direi che in pochi minuti ce la siamo cavata. Questa è Public contro Stealth. Non abbiamo altro a dire, se volete la Stealth Mode non c'è niente da fare, dovete fare l'ultimo abbonamento, che è quello da 60 dollari al mese, oppure se pagate tutto l'anno 48 dollari al mese, che sono probabilmente 42-43 euro, però aggiungeteci l'IVA, quindi 50 euro può essere circa 50 euro. Quindi questo è quanto. Nel prossimo video parliamo della Test Mode. Abbiamo qua due Test Mode e quindi c'è la parlare di Test Mode, Remix Mode e poi di Niji. Nei prossimi tre video vediamo queste tre cose. Ci vediamo tra poco.